buongiorno a tutti allora 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 dopo essermi visto un po di video del buon Stefano Piffer che era un po' che non li vedevo e devo dire andate sul suo canale che fa video da libidine non certo come i miei lui ci mette tanta bella robettina in più io ho sempre paura del youtube che stessa e poi non sono così bravo andiamo a parlare un po' di football perché dobbiamo vedere come sono andati nel weekend i campionati europei poi con calma faremo anche il campionato italiano nella giornata di domani parleremo di Champions non vi faccio schedine bollettine ma parleremo solo dei quarti di finale di ritorno di Champions League ve li farò per l'Europa League e la Conference invece ma partiamo subito con il campionato spagnolo vediamo cos'è successo allora innanzitutto venerdì sera il raio valecano abbattuto della sfida diciamo per un posto in Conference barra Europa League l'usasunia per 2 a 1 poi clamoroso sabato il Villareal e questa è una sconfitta pesante ha perso in casa 2 a 1 con il Vagliadolid che gioca per salvarsi e lì le motivazioni signori miei contano il Vagliadolid gioca per salvarsi il Villareal gioca per un posto in Rappalini questa è una sconfitta pesante soprattutto perché il raio valecano ha vinto l'Atletic Bilbao ha battuto 2 a 0 la Real Sociedad sconfitta direi pesante per la Real Sociedad che si sta giocando la Champions è lì a limitare lei e l'Atletico si giocano al terzo posto diciamocelo mentre l'Atletic Bilbao si gioca un posto anche lui in Europa League scusate il Bronco di Riace il Betis Sibili invece non ha avuto alcuna pietà dell'Espanyol che si sta che sta giocando per la salvezza al Betis invece gioca per un posto in Champions e questa è una vittoria importante per il Betis 3 a 1 sull'Espanyol il Real Madrid è andato a vincere 2 a 0 a Cadice quindi non bolla il Barcellona prova a stargli vicino si fa per dire visto che la differenza è abbastanza importante il Girona batte 2 a 0 l'Elce ultimo in classifica che tra l'altro rimane pure in 10 al 92 io non capisco mai queste enormi perché capitano troppo spesso queste espulsioni ragazzi miei queste espulsioni al 92 esimo in tantissime partite cosa mi rappresenta farsi buttare fuori al 92 esimo cioè ormai la partita è finita stai perdendo 2 a 0 boh va beh ghetafe barcellona 0 a 0 quindi scusate un attimo dicevamo ghetafe barcellona 0 a 0 questo è un pareggio che permette al Real Madrid di recuperare due punticini al Barcellona ma la differenza ancora abbastanza importante l'Atletico Madrid senza difficoltà batte 2 a 1 l'Almeria il Valencia signori miei nella sfida con Siviglia che avrebbe dovuto vincere eccetera perde 2 a 0 poi resta anche i 10 ma dall'84 esimo ormai il risultato era già chiuso Siviglia stava vincendo 2 a 0 dal 75 esimo quindi l'espulsione di bonita 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 bonia bonia come cavolo si chiama questo qui moriva 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 e ma moriva moriva all'84 esimo cambia poco problema è che il Valencia adesso un po della cacca sempre di più della cacca e infine partita di ieri sera il Mallorca va a vincere in casa del Seltamigo 1 a 0 e giustamente al novantatresimo ballo 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 da capo oggi va beh ballo al 90 più 3 si fa buttare fuori va beh ecco io queste cose francamente non le riesco a concepire c'è uno che si fa buttare fuori dei minuti di recupero ti sono saltati i nervi non lo so va beh comunque andiamo a vedere la classificona perché mi sa che adesso la lotta a salvezza si fa tosta per qualche squadra allora il Barcellona 73 punti Real Madrid ha 62 11 punti di differenza hai voglia che vai a recuperarli ma è vero che mancano ancora nove giornate tutto può accadere però credo che il Barcellona possa permettersi anche qualche altro pareggiotto e stare tranquillo lo stesso l'Atletico Madrid ha 60 la Real Sociedad ha 51 il Betis ha 48 quindi nonostante la sconfitta con il Bilbao la Real Sociedad mantiene tre punti di vantaggio sul Betis e quindi mantiene la possibilità di andare in Champions l'anno prossimo nonostante la sconfitta casalinga contro il Valladolid il Villareal rimane sesto e rimane a un punto dal Betis Siviglia per ora il Villareal giocherà la Conference il Betis l'Europa League poi bisognerà vedere chi vince la Coppa di Spagna perché se la vincono una tra l'Atletico Madrid e Real Madrid tra Barcellona e Real Madrid cioè una delle prime quattro problemi non ce n'è la settima va in Europa in Conference e la ma in Europa League scusate il raffreddore se viceversa chi vince la Coppa di Spagna è una squadra dal settimo posto in giù anzi dall'ottavo posto in giù perché il settimo ancora ancora banderebbe in Europa League Conference la sesta e lui andrebbe in Europa League ma comunque le prime sette avrebbero se invece dall'ottavo in giù mi spiazzi ma la sesta se ne va in Conference e la quinta va in Europa League e la settima se la prende nel Pulipo quindi in questo momento al sesto posto c'è il Villareal l'Atletico Bilbao è a quattro punti perché il Villareal è a 47 a un punto dal Betis e a quattro punti dalla Real Sociedad quindi possono ancora farci un pensierino al quarto posto Massimo può fare un pensierino al sesto posto visto che ha quattro punti dal Villareal il Raio Vallecano è ottavo a 40 ma è dura e potrebbe sperare nel settimo posto superando il Bilbao Girona e Eusasugna sono a 38 e cominciano a vedere i sogni di Europa cominciare a svanire il Mallorca a 37, il Celtavigo a 36, il Siviglio ormai abbastanza tranquillo a 35, abbastanza ma non troppo per sempre comunque guardarsi le spalle però dopo la vittoria col Valencia si è messo in una posizione più tranquilla e veniamo invece alle squadre che si giocheranno alla salvezza fino alla fine il Valladolid a 32, quattordicesimo il Getafe a 31 a pari col Cadice che sono quindicesimi e sedicesimi l'Almeria a 30, diciassettesima e poi abbiamo le tre squadre che in questo momento andrebbero della Serie B spagnola il Valencia sarebbe clamoroso a 27, l'Espagnol diciannovesimo anche lui a 27 e l'Elce che ormai è condannato a 13 quindi o il Valencia si muore, si dà una mossa o l'Espagnol si dà una mossa o se no mi sa che l'anno prossimo due squadre abbastanza importanti come Valencia e l'Espagnol potrebbero finire nella Serie B spagnola e sarebbe veramente brutto 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 ma andiamo a vedere la prossima di giornata che potrebbe regalare qualcosa di interessante siamo solo alla trentesima il campionato spagnolo è un attimino no è più o meno come il nostro siamo lì allora si partirà venerdì 21 aprile con l'Espagnol Cadice e questa già comincia ad essere una sfida salvezza da libidine poi abbiamo Osasunia Betis e questa è una sfida per l'Europa invece Almeria-Atletico-Bilbao è una sfida invece testa da croce anche se comunque il Bilbao è lì in settima posizione più o meno l'Almeria appena sopra la zona salvezza poi abbiamo Real Sosedarraio-Vallecano altra sfida molto interessante una quarta contro sesta ottava Tava Baglia-Dolì-Girone invece è una sfida tra squadre che sono appena sopra la zona salvezza Real Madrid-Saltamigo l'occasione per il Real Madrid per fare tre punti facili Elce-Valencia ecco signori questi sono è una partita in cui il Valencia deve vincere giochi con l'ultima in classifica è l'occasione di fare tre punti non te li puoi lasciare scappare anche perché l'Elce ormai non è che ha granché da chiedere sicuramente l'Elce in casa non regalerà nulla quindi il Valencia deve andare lì fare la partita e vincere poi abbiamo la partita da Libidide domenica alle 4 e 4 abbiamo Barcellona-Atletico Madrid da doppia Libidide con i fiocchi certo si gioca a Barcellona quindi tutti i favori del pronostico sono per la squadra di casa però l'Atletico Madrid con la sua difesa il suo Simeone che cazzimma i giocatori li fa entrare in campo belli carichi potrebbe dare un po' fastidio al Barcellona magari bloccarlo in un altro pareggio e permettere al Real Madrid di avvicinarsi ulteriormente si fa per dire perché comunque la differenza è comunque importante Mallorca-Ghetafe potrebbero anche decidere di fare un pareggiotto amichevole meglio due feriti che un morto e infine Siviglia-Villa Real ricorda sfide del passato ma naturalmente le posizioni delle due squadre sono diametralmente opposte il Siviglia si è appena tolto dalla zona pericolo ma una sconfitta non è che lo rimette perché comunque ha otto punti di vantaggio sulla terza ultima quindi abbastanza tranquillo però comunque è una partita che sarebbe meglio non perdere viceversa Villa Real ha bisogno di fare punti per rimanere in zona Europa quindi tutte partite abbastanza interessanti in cui spicca Barcellona-Atletico Madrid bene ragazzoli mi sono dilungato anche troppo io vi saluto, vi ringrazio adesso vado a fare anche il campionato francese perché prima di fare la ditta nanna voglio farvi tutti i quattro i campionati europei il riepilogone così poi nella giornata di domani non sono da fare il campionato italiano ciao anzi di oggi perché ormai siamo già praticamente a martedì ciao 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 ciao